Continuano i preparativi per l'inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri, dell'arma dei Carabinieri qui a Partenico, che poi come ben sapete è una compagnia che viene diretta su numerosi comuni del comprensorio. Come vedete è allestito il palco per le autorità, presenti che saranno autorità, quantomeno quelli confermati, parliamo del ministro della difesa Guido Crosetto, ma a quanto pare potrebbe anche esserci il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini e dopodiché ovviamente il comandante generale in capo dell'arma dei Carabinieri, il generale Teoluzzi, poi i vari colonnelli provinciali, il capitano Petrosino che attualmente comanda e dirige la compagnia di Partenico e tante altre autorità. L'invito alla cittadinanza è a partire dalle 10 di giorno 31 e come vedete già è tutto transennato, c'è questo traffico veicolare che già vi abbiamo informato in questi giorni fino a giorno 2 come verrà deviato e tra le altre cose la notizia è che l'emittente Tareato a partire dalle 10 trasmetterà in diretta sui nostri canali, sul canale 195 in Full HD e sul canale 184 per tutta la regione Sicilia, verrà trasmesso l'evento prima ovviamente in diretta con tutta la manifestazione che si svolgerà qui in loco, quindi avremo le nostre telecamere qui presenti e ovviamente la cittadinanza, chi non può venire o chi ci seguirà da lontano potrà seguire l'evento. Attenzione, se non avete la possibilità di avere un televisore a portata di mano potete scaricare sempre l'app Tareato dal telefonino e seguire le nostre dirette, non solo ovviamente quella dell'evento ma anche il telegiornale, potete seguire tutte quelle che sono le trasmissioni di Tareato attraverso l'app. Quindi vi ricordo l'appuntamento per venerdì 31 a partire dalle ore 10 o qui in B.E. del Mondo dei Amici o in diretta non solo su Tareato, ma anche sui nostri social, su Tareato Servizi, su Prima Radio TV, su Partenico Live, su Balesadesi.it, su Partenico New e tanti altri.